L'importante è avere la presenza del basso costante che può essere o contemporanea o alternato. Gli accordi base sono il Mi, il Mi1, 2, 3, 4. Forma E, settima. Forma D, settima. Forma C, settima. Forma, con dei glissati, tipicamente blues. Il La per ora lo lasciamo sempre in questa forma. E il Si, che è il quinto grado, è in questo. Facendo le dodici misure del blues con la variante al quarto grado, alla seconda battuta, varrebbe più o meno così. Terza battuta. Secondo piano. Terzo piano, Si. Allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.